Simone, a quanti anni hai iniziato a giocare a basket? Ho giocato a basket in piedi abbastanza tardi all'età di 14 anni e ho iniziato a giocare a basket in carrozzina nel 2011-2012. Perché hai dovuto smettere di giocare a basket in piedi? Ho smesso perché nel 2008-2009 mi è stato diagnosticato un osseosarcoma, un tumore osseo e quindi di conseguenza dopo l'operazione ho dovuto smettere di giocare. Qual è la differenza tra il basket in piedi e il basket in carrozzina? Allora fondamentalmente non ci sono differenze, l'unica grossa differenza ovviamente è lo spazio che occupa la carrozzina e quindi di conseguenza tutti gli schemi, tutti i movimenti sono una conseguenza dello spazio della carrozzina che usiamo. Da dove è nata questa possibilità? È nata, per fortuna mi hanno contattato tramite Facebook e quindi da lì ho iniziato a seguire delle partite della polisportiva Micacci Giulianova e da lì mi hanno inserito piano piano. Quanto è stato difficile tecnicamente? All'inizio abbastanza difficile perché il basket lo conoscevo, riuscivo a giocare, lo capivo subito però ovviamente la difficoltà è stata nell'imparare a usare la carrozzina da gioco che non è molto semplice. Sei capitano della nazionale di basket in carrozzina, sei di ritorno da un campionato, vi siete qualificati? Ci siamo qualificati ai mondiali, sì è stato un grande onore vestire prima di tutto la maglia della nazionale e oltretutto con un ruolo abbastanza importante che è quello da capitano. Ci siamo qualificati per un importantissimo mondiale, è stato un europeo abbastanza duro sotto tutti gli aspetti però è un grande onore poter andare al mondiale il prossimo anno. Avresti mai pensato di raggiungere questo traguardo? Sinceramente è sempre stato un mio grande obiettivo, un mio grande sogno. Non si può mai essere sicuro di arrivare in nazionale pur avendo fatto un grande campionato essendo stato il miglior marcatore italiano, non ho mai pensato che fosse così scontato arrivare in nazionale soprattutto con questo ruolo.